Canon Legria HF-G25 è la videocamera digitale progettata per soddisfare la creatività degli appassionati di video. La tecnologia ad alte prestazioni di Canon integra su questa videocamera un eccellente obiettivo grandangolare da 30,4 mm con zoom ottico 10x e diaframma a 8 lamelle per morbidi effetti e giochi di messa a fuoco. Legria HF-G25 possiede il sensore avanzato HD CMOS Pro che offre eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e ampia gamma dinamica. La ghiera manuale dell'obiettivo consente un controllo intuitivo della messa a fuoco offrendo un controllo manuale completo mediante il display LCD touchscreen da 8,8 centimetri. Canon Legria possiede la funzione di stabilizzazione Intelligent IS, la soluzione ideale per contrastare le vibrazioni della videocamera che assicura video stabili e ricchi di dettagli in ogni situazione. Con la tecnologia Audio Scene Select e un microfono zoom integrato ad alta sensibilità è facile fornire un audio ottimale ai tuoi filmati. Selezionando uno dei 5 tipi scena le impostazioni audio vengono ottimizzate automaticamente in base alla scena. Inoltre Instant Autofocus offre una messa a fuoco rapida e precisa per sfruttare al massimo la straordinaria eccellenza dell'alta definizione. Un grande paraluce che consente di eliminare il flare causato dalle sorgenti luminose esterne è incluso e integra un copri obiettivo ad apertura per una protezione totale in modo da essere sempre pronti per qualsiasi ripresa. I video AVC HD Full HD vengono registrati fino a 24 Mbps sulla memoria flash integrata da 32 GB che assicura oltre 12 ore di registrazioni. In più il doppio slot per schede SDXC e relay recording offrono capacità sufficienti anche per i progetti più ambiziosi. Canon Legria HFG25 risulta uno strumento professionale per dare forma alla creatività di tutti gli appassionati di videomaking.